Benvenuti a questa nuova edizione di Talia's Got Talent, uno show imperdibile, il concorrenti più agguerriti che mai ed emozioni senza fine. Come sono andata, Frank? Allora, come cantante mi piacevi un sacco, come conduttrice funzioni, belle energie, per me sei passato. Stai scherzando? Decido io. Stai scherzando? Sono una nuova conduttrice? Sì. Ma aspetta, aspetta, tipo Visio cosa dici? Ma Claudio non decide niente, è vecchio, non comanda più niente, no, però mi puoi fare quella cosa che ti ho chiesto? Sì, certo. Francesca, no? Sì, sì. Claudio non decide niente. Eh, infatti. Tu ti vendi per un autografo? Ragazzi, ma mi fate schifo. Ma la responsabilità, il lavoro dell'attore, la gavetta, la professionalità, che fine hanno fatto? Queste cose si fanno almeno per due autografi. Gianni e Paolo, sono due nipolli, fateci fare. Ci tengono tanto, ti hanno visto sempre cantare, stonare un po', ma a loro piaci tanto. Dai, è pronto il camerino? Sì, alle otto ci sono io, l'essenziale ti ho preparato in gaffè, conci premuta. Cosa ti ha fatto? A Francesca mi ha fatto. È una mia nipolli, una seconda nipolli. Ma era per te. Per partecipare come pubblico alle audizioni di Talia's Got Talent, scrivi a pubblico.vicenza-italiasgottalent.it o chiamalo 02-92800-555.